Se sarò eletto, io andrò al Parlamento Europeo, a Strasburgo e a Bruxelles. Io ci vado. Lei anche chiede i voti per andarci e non rimarrà Presidente della Regione Emilia-Romagna? Io non posso rimanere Presidente della Regione Emilia-Romagna, nel senso che in ogni caso, tra pochi mesi, terminerai il mio secondo mandato. Lei ti racconta che io fui eletto la prima volta nel novembre del 2014, sono già oltre nove anni e mezzo di governo. Non potrei perché legittimamente, in particolare il Fratelli dell'Italia, ha deciso che il terzo mandato veniva dato solo ai comuni sotto i 15.000 abitanti, che sono la quasi totalità dei comuni italiani, non a quelli superiori e non alle Regioni. Se ci avessero dato il terzo mandato, credo mi avrebbero chiesto di ricandidarmi, la destra dice che scappo. In realtà ha visto i sondaggi e sa che probabilmente, anzi, sa come sarebbe andata probabilmente se avessi potuto ricandidarmi per il centrosinistra. Ma nessuno di noi è indispensabile. Io mi candido da capolista in Europa, ringrazio la segretaria del mio partito e la comunità del mio partito che me l'hanno chiesto. Io ovviamente se eletto andrò in Europa perché credo di portarci il meglio dei valori della terra che rappresento. Direi in generale del nord-est, essendoci qui tre delle quattro prime Regioni che esportano nel mondo e come turismo alcune tra le principali Regioni. Per cui ci vado volentieri. Io credo che i leader si stiano candidando perché è evidente che la presenza di leader può portare e aggiungere voti ai propri partiti. C'è chi lo fa come Kalenda Erenzi per cercare di superare il quorum, c'è chi lo fa come Elie Schlein per cercare di dare una mano al PD ad avere più voti possibili, c'è chi lo fa come Giorgia Meloni. In realtà in questo caso mi pare evidente, l'avete detto tutti, per cercare un referendum su se stessa. Cioè più che parlare di Europa mi pare che Giorgia Meloni cerchi un consenso nel paese, visto che intorno a un governo che molte delle promesse che ha raccontato non le riesce a realizzare, vista anche l'andamento economico che non sarà propriamente favorevole non quest'anno, per i prossimi tre anni, perché fra due o tre anni saremo di nuovo i peggiori in Europa per crescita economica, ma anche completamente politiche industriali. Dopodiché l'Europa davvero è una sfida importante, gran parte delle risorse che le Regioni e i Comuni utilizzano vengono dai fondi europei, ma soprattutto abbiamo detto tra vecchie e nuove potenze, se si pensi ad esempio a Cina e Stati Uniti, o l'Unione Europea diventa qualcosa di meglio, ma qualcosa di complessivamente competitivo, altrimenti ogni Stato nazionale, come vorrebbero i sovranisti, è destinato a scomparire e non contare nulla. Poi c'è la presenza di Vannacci come capolista, se vuole su questo due riflessioni le farei. Ebbè no, lei mi invita, quando si balla di...